Musica Bentornati Bordel per questo nuovo episodio di FIFA 14 Ultimate Team Siamo qua oggi per disputare la terza partita del campionato della divisione numero 6 abbiamo 4 punti come potete vedere la salvezza è a 10 e oggi proveremo ad arrivare a 7 punti ah giusto, giusto, giusto piccolo particolare guardate chi c'è lì nel mezzo blu che bello sono riuscito a comprarlo a un prezzo tra virgolette tra virgolette stracciato ce la faremo oh una bella Bundesliga oh sì qua ci danno delle legnate enormi sarà una partita che largerà come si parti via via si parti via via eccolo eccolo subito super mario ballotelli subito dopo 3 minuti siamo subito avanti una partenza lampo per questi elmo attenzione elcia elcia si fa saltare elcia oddio ma chi è sto coglione andanovi c'è un mostro che può ripartire elcia madonna ci ha messo 50 milioni di anni poi anche quel cazzo di radar porco 2 non si vede niente da là ci sotto andanovi si bene come giochiamo si come giochiamo si come giochiamo si via via si che puoi andare balo no sbagliato questo parla ma è muller ma va così forte esatto che va così forte guarda lì vangone proprio si va veloce cazzo quadrato 22 minuti sul cronometro 1 a 0 animals la partita si fa interessanda intanto non si vede niente aia 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 sti campi con quell'ombra lì qua inizia lo sclero si che giochiamo bene si che giochiamo bene si che giochiamo bene pano pano cos'è oggi? bravo se l'ha parata fuori da solo si che dai guarda lì guarda lì neanche affanculo non stiamo giocando bene per niente comunque ecco là c'è l'ombra io non vedo niente non lo so io partita guarda orribile si adesso che andiamo si adesso che andiamo si adesso che andiamo si adesso che andiamo guarda quello è Dante è veloce come bia bia nì si quadradone che la metti balon vai Giorgio vai Giorgio mamma mia quanto si soffre oh contropiedi è una roba assurda stai lì stai lì stai lì stai lì stai lì stai lì che sclero sta a vedere ho fatto anche fallo più buono Muller non lo sposti neanche con le bestemmie guarda che adesso prendiamo gol sicuro come la morte oddio ma non è vero non è vero non è vero porca ci siamo mangiati il gol del 2 a 1 dai balo qualcuno buono buono metti la si balo può può traversa non ci credo qua c'è lo script qua c'è lo script questa non finisce 2 a 1 e non vinco io ci siamo spazzati bellissimo per Vido sì che vai Vidal sì porca non l'ha presa mica ecco si Muller è il bug supremo maiala vaffanculo ma che cazzo era Balotelli vaffanculo bravo bravo vai adesso Elcia parti Elcia parti Elcia bravo balò non ci credo bravo Paolo questo è il toz che voglio vai adesso Paolo vai adesso Paolo mamma mia oh dai quadrato che c'hai 93 di velocità po' c'hai un non dico niente cazzo fa col coglione più semplici proprio vai ma ma allunga sta cazzo di gamba mamma mia ce n'hai tre di gambe ne hai bravo Paolo dai oh rega ultra offensiva vaffanculo massimo per almeno ce la giochiamo come si deve eccolo il bug dai ma porco due che due coglione si ma la gente è baggatissima cioè come fa ad andare più forte di Armero vaffanculo pensate voi come sono le partite qui su FIFA bravo bravo Paolo fai adesso dai traversa dai traversa ancora allora parti qualcuno guarda lì i controlli più lenti della storia del calcio dai qualcuno che si muova guarda lì guarda lì mamma mia sculati buono questo tfogli tfogli oh oh ma hanno quello guardali guarda tutti un palo ma guarda ha preso un altro palo cazzo si fa guardali con le ultime forze Paolo guarda lì andava nell'incrocio l'ha preso Armero guarda guarda che poi è andato un gol adesso vabbè insomma siamo perdendo la pena proprio la pena la pena poi non ho capito perché andando lì sono assoluto finisce qua 4 a 1 per lui neanche giustamente neanche giustamente forse doveva vincere ma neanche di tanto nel senso che io ho giocato male ma lui ha avuto delle sculate perché ho preso tre pali insomma ragazzi questo è fifa segna il terzo minuto giochi te poi ti segnano così e non giochi più questo è fifa purtroppo quindi ragazzi siamo ancora così a 4 punti proveremo nella prossima partita a agguantare i 7 punti almeno giusto per salvarci stacca quindi detto questo vi saluto vi ringrazio spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like un commentino iscrivetevi al canale se non l'aveste già fatto detto questo da nerd in genere è tutto ciao raga ciao 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 ciao